Inaugurato nel pomeriggio di domenica 7 maggio il Giardino delle Arti, un progetto di riqualificazione ideato dalla giovane associazione Città Invisibili, uno spazio che nelle intenzioni dell'associazione dovrà essere partecipato e vissuto da parte di ogni cittadino. Il progetto di riqualificazione parziale ha coinvolto una parte della villetta situata in piazza San Francesco attraverso l'abbellimento artistico di tre panchine, ognuna di esse rappresenta un tema arte, musica e letteratura e sono dedicate a giovani talenti artistici nicosiani. Questo spazio riqualificato sarà un luogo in cui si traranno dei laboratori artistici aperti a chiunque voglia dare il proprio contributo. I soci dell'associazione Città Invisibili hanno illustrato il loro primo progetto di riqualificazione spiegando in poche parole lo scopo di questa iniziativa e di progetti futuri che coinvolgeranno anche altri luoghi di nicosia. È intervenuto dall'inaugurazione anche Ivan Bonomo, assessore del comune di nicosia, che ha informato gli intervenuti sui progetti di riqualificazione urbana attuati dall'amministrazione comunale. Il cuore dell'evento è stata la scopertura delle panchine. Ciascuna opera, l'arte è stata presentata dalla presidente dell'associazione Santina Giusto. La prima è stata quella della musica realizzata dall'artista Maria Agozzino. Nel quadro globale dell'opera si nota il viso del celebre rapper di origine nicosiane, Marrakesh, il talento a cui è dedicata quest'opera d'arte. Felice Fiscella ha realizzato la panchina letteraria che riporta una massima titolo Calvino sulla leggerezza. L'artista non era presente per motivi familiari. Il suo lavoro è stato presentato da Maria Rosaria di Dio. Santina Giusto ha letto un brano scritto dal talento letterario a cui è dedicata quest'opera Daisy Musumeci, che per motivi di studio non era presente alla serata. Anche l'ultima panchina dedicata all'arte nel suo complesso è stata realizzata da Felice Fiscella. La panchina è dedicata al talentuoso pittore Davide Rizzo. Una sua opera, il quadro L'odore del mare, era presente all'inaugurazione. Il significato della panchina è stato spiegato da Valeria Campione. L'incubatore di idee è una delle novità più originali presentate durante l'evento. Si tratta di una casetta in legno realizzata dal falegname Carmelo Sillicato, uno sportello di comunicazione tra l'associazione e la città, come ha spiegato la presidente Santina Giusto, uno strumento partecipativo attraverso i quali i cittadini possono comunicare le loro idee, lamentele, critiche o progetti. Accanto a questa casetta in legno è stata posizionata una fioriera donata da Piero Rizzo, uno degli associati. I momenti musicali sono stati affidati al rapper Nicosiano Felice Agozino, musicista ed artista di valore.